hola gringo faccio il saluto ok allora il tuo messaggio è stato votato vi faccio vedere questa build scusate se le mie robe non sono potenziate al massimo e quindi farò meno danno però ok e niente la build è mia però c'è un piccolo problemino che ho messo l'elmo di oroboro non sapevo che mettere ho messo quello perché fa figo e quindi niente vabbè facciamo un po' di pvp avete visto lo scaling insomma livello 150 se poi avete magari guanti quelli che aumentano l'avvelenamento sarebbe molto ma molto meglio ok vediamo di sto primo pvp e come viene va allora mettetelo a due mani chiaramente quelle due robe i due pugnaletti e poi con l1 potete spammare attacchi in maniera tale anche da avvelenare capito va bene ok cos'è il cavaliere dello specchio vabbè andiamo avanti eh vediamo se riusciamo a fare un bel guard break eh immaginavo tu tu ole non gli abbiamo levato tantissimo perché come ci ho detto non è potenziato in modo elevato l'anello dei giganti ma quanto equilibrio vuole avere questo è ancora alzato poi vediamo se riusciamo ad avvelenarlo a ci mancava poco mi sono preso il danno però eh porca eva ma vabbè scusate sono un po' raffreddato ma dai non ti parare con lo scudo così è rimasto un pochettino fregato non sa che fare ok vediamo se riusciamo a fare andiamo peccato gli stavo per fare il backstab eeeh vediamo se riesco ad avvelenarlo però e no ok io magari direi provare a fare un parry eeeh immaginavo immaginavo ok eeeh boom adesso gli faccio un guard breaker sicuro ora si para guardate si è parato ma lo so già perché capisco c'è prevedo io sto giocando quindi vabbè what you gonna do man what you want what you want man nabbetto e ok e la prima l'abbiamo vinta e anche se non l'abbiamo vinta diciamo grazie all'avvelenamento però l'abbiamo vinta ok proviamo a farne un'altra comunque se voi avete dei potenziamenti magari per potenziarlo ad esempio i pugnalli li fate entrambi più 10 perché io li ho potenziati pochissimi dato che non voglio sprecare titaniti e robe così dato che è una build che non userò praticamente male perché io ho una build mia che mi piace davvero usare quando mi impegno questa qui la uso ogni tanto tanto per per cazzeggiare un po' e quindi niente vediamo di ammazzare questo odizio che build ha questo con la lancia poi la veste quella iniziale del gioco bu vai 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 no ma vabbè non ci credo non ci ma di quanto 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 vai che mi vuole avvenenare pure lui ma guardalo fierissimo popo ma la la vai 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 col backstab ah vai col backstab non scappa eh dai mica mi vuole avvenenare pure lui non scappare dai ah per poco gli avevo fatto il perry le avevo pirato non so scherzando dai buuuu yes baby è morto è praticamente morto è praticamente morto però vabbè vieni qui dai scusate se non scherzo tantissimo ma perché voglio vincerla non mi sto impegnando non vorrei perdere fare brutte figure vai dai ok 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 adesso dovrebbe essere finito dai però veloce ah ok ciao ciao what you want what you gonna do man what you want ehm adesso taglierò dopo in post commenter ci vediamo dopo ed eccoci qui tornati allora come on me bro come on me come on me man vieni avanti vieni avanti andiamo andiamo dove sei non mi dire che minchia ma io avevo un sesto senso me lo sentivo che mi compariva alle spalle vieni qua non si fa così bello ti devi inchinare ah esatto bravo ecco devi fare l'inchinare ecco vai avanti forza minchia minchia la cazzo di mazza bah non si fa fare il guard breaker però eh tatà minchia l'ho quasi avvelenato no non ho più stamina dai l'ho avvelenato vabbè e dai fatti avvelenare oh ma sto trovando avversari scarsi va bene che mi sto impegnando però e vaffanculo dai porca Eva non si vuole fare prendere oh ma che palle vieni qui e che cazzo dai minchia minchia scopri di tol tutto il tempo ok avrei dovuto fare gli peri però non potevo dato che ero in due l'uilding vieni qui dai che l'ho avvelenato dai che l'ho avvelenato e l'ho avvelenato e l'ho avvelenato ok vai 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 vediamo l'ho avvelenato eh si ciao 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 e niente questa era la build noi ci becchiamo al prossimo video fate i buoni che farei me con buone